Oggi secondo me la nostra missione è quella di istruire il consumatore. Io credo che lo Specialty Coffee rappresenti in questo momento il motore di innovazione per quanto riguarda il mondo del consumo fuori casa, nel caffè soprattutto, si parte da qui. Credo che questo dà possibilità al consumatore di poter sperimentare, scoprire e probabilmente raggiungere un maggior livello di consapevolezza rispetto proprio a ciò che accade quotidianamente quando approccieremo o approcciamo il bar. Questo è una fantastica opportunità, questa è una fantastica opportunità. Britta, innanzitutto, durante questo Milan Coffee Festival ha fornito a tutti gli espositori delle proprie acque appositamente trattate per la migliore estrazione dei loro caffè. Dico le proprie acque perché non c'è un'unica acqua. In questa occasione abbiamo fornito ben tre tipi di acqua che si adattano a diversi tipi di estrazione. Questo è stato possibile con l'utilizzo dei nostri sistemi di trattamento che sono sistemi che a seconda della qualità dell'acqua disponibile ci consentono di bilanciarla opportunamente per una perfetta estrazione in pure over piuttosto che per la preparazione di un espresso con origine o a fattire da uno special coffee o per un tradizionale espresso all'interno. La S71 è il nostro ultimo modello di macchina, a prescindere dai materiali, sicuramente dal design all'avanguardia. La prima cosa che salta all'occhio sono queste nuove bellissime lance totalmente snodabili e studiate appositamente per la latte art con la potenza regolabile direttamente dal barista. Un'altra cosa importante sicuramente ormai è una nostra consuetudine in Faema il multi boiler system, lo smart boiler, con la quale il barista si può settare la sua temperatura indipendentemente un gruppo dall'altro. Un'altra cosa importante sicuramente ormai è una consuetudine in Faema italiana Grazie a tutti.